Salve a tutti amici videoludici e benvenuti al terzo e ultimo video extra di sfida al dolore sempre qui su Metal Gear Solid 5 e sempre qui in compagnia di Aritime. Allora come avevo annunciato nei video precedenti avrei portato tre video extra sempre sul come affrontare i boss di Metal Gear Solid 5. Il video di oggi è di nuovo come protagonista Quiet per l'ultima volta. Questa volta però vi parlerò di come affrontarla a livello estremo ottenendo tutti i compiti missioni, il rank S e l'emblema Foxhound. A inizio missione dovrete assolutamente viipaggiarvi il braccio razzo e portare con voi anche di Dog perché vi ricordo che vi permetterà di sapere la posizione di Quiet più facilmente. Una volta iniziato come al solito segnatevi quindi la sua posizione di Quiet sulla mappa. Prendete quindi la via di sinistra rimanendo per un buon tratto accovacciati e attaccate alle rocce. La vista di Quiet infatti a livello estremo è veramente tremenda ragazzi e se vi trovate a tiro vi uccide un colpo solo per cui fate molta attenzione. Una volta al sicuro correte subito sotto di lei e aspettate che scenda. A quel punto dovrete semplicemente seguire i suoi spostamenti e ogni volta che si fermerà nascondetevi e colpitela col braccio razzo. Ora però arriva la parte difficile. Uno dei compiti missioni ragazzi è quello di abbattere Quiet usando il corpo a corpo quindi dovrete usare il CQC ma va bene anche un bel cazzotto ben assestato. C'è però un problema è una cosa molto lunga da fare e probabilmente sarete anche costretti a ripetere più volte la missione. Il mio consiglio è questo ragazzi imparate a riconoscere in quali punti della mappa Quiet si può fermare e dovrete quindi semplicemente aspettare che si fermi ad esempio o tra le macerie oppure nelle pozze d'acqua per riprendere energia. A questo punto vi basterà correre dritti verso di lei e colpirla quindi con un pugno ben assestato. A quel punto avrete quindi vinto con tutti i compiti missioni ultimati. Bene ragazzi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto se non vi siete ancora iscritti fatelo andate anche sui nostri canali secondari visitate anche il sito Network in Progress e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!